chi si trova dietro la new age dietro la new age in verità si trova un sacerdote chiamato padre pierre taylor de chardin questo padre de chardin è praticamente colui che ha creato la new age interessante notare come anticamente la fra massoneria si chiamava new age poi nel 1901 uscirà in italia la prima rivista di ispirazione massonica intitolata proprio nuova era cioè new age la new age è legata a importante realtà come per esempio l'on ma non solo l'unesco il concilio mondiale delle chiese il club di roma la fondazione rockefeller la fondazione forte lo stesso gruppo bildenberg la massoneria i rossacroci gli are Krishna e gli unitariani la teosofia gruppi ufologici ce l'hanno proprio come cavallo di battaglia nella seconda parte parleremo meglio del padre fondatore della new age appunto il sacerdote gesuita pierre taylor de chardin e di come tutto viene depistato a un altro nome sempre di un sacerdote francese di un altro ordine però non è un gesuita in questa prima parte abbiamo appunto parlato dell'induismo e soprattutto dello yoga del kundalini quindi e di tutto questo fondamento e abbiamo dimostrato come la new age e il l'induismo hanno in comune lo yoga la meditazione e di come questo sia il fondamento e di come tutto ciò non è affatto qualcosa di innocuo e gli stessi esercizi non sono affatto in occhi come sempre diciamo come spesso diciamo noi invitiamo l'ascoltatore a investigare queste tematiche soprattutto avvalendosi anche di altre lingue per se non le conoscete comunque ci sono mezzi che ti permettono di leggere traducendo e di investigare in modo serio quello che noi vi abbiamo detto e noterete come queste cose vengono denunciate non solo da noi cristiani ma appunto anche da quei mondi che nulla hanno a che fare con le cristianissimo e con questo cari amici abbiamo terminato con la prima parte di questo video vi invitiamo a seguirci nella seconda parte che dio vi benedica bene cari amici benvenuti in questa seconda parte del presente video in questo video inizieremo a trattare il tema degli alieni quindi dell'ufologia l'ufologia normalmente la si fa nascere nel 1947 ma di questo parleremo fra breve intanto vogliamo iniziare a dire quanto segue nei soli stati uniti di america fino a qualche decada fa sono stati coinvolti più di 150 mila medici i quali sono stati investiti per indagare il fenomeno delle cosiddette adduzioni cos'è un'adduzione un'adduzione praticamente non è altro che il rapimento da parte di entità extraterrestri nei nostri confronti quindi una persona viene adotta si chiama appunto adduzione poi vedremo più avanti in cosa consistono nel dettaglio queste adduzioni si parla che solamente queste le denunce ufficiali solamente negli stati uniti di america sono state adotte non meno di 4 milioni di persone questo è un dato abbastanza vecchio insomma ora noi possiamo comprendere perfettamente che su 4 milioni di persone certamente non ci hanno marciato diciamo tutti a 4 milioni sarebbe improponibile un pensiero del genere quindi ci rendiamo perfettamente conto che qualcosa veramente sta succedendo poi vedremo di cosa si tratta ma vogliamo riprendere appunto quello che stavamo dicendo poc'anzi ovvero l'inizio di questo fenomeno tutti quanti lo fanno risalire al caso crowe roswell e del diciamo nel 1947 new messico stati uniti di america un contadino scopre una o più sopposte navicelle spaziali la quale o le quali sarebbero precipitate nel suo territorio e vogliamo ricordare che l'area 51 la famosissima area 51 nasce proprio lì guarda caso ora vogliamo altresì ricordare che 1947 e 1948 sono due dati importanti perché nasce lo stato di israele infatti lo stato di israele nasce con risoluzione onu 181 del 1947 mentre invece diciamo l'arrivo degli ebrei nella terra di israele eres canan e si concretizza nel 1948 e da lì sappiamo che comincia l'ultima ora degli ultimi tempi guarda caso proprio in quel momento inizia anche il fenomeno ufo o extraterrestri molto importante questo dato da allora sono stati milioni di milioni di milioni non solo in america ma in tutto il mondo le persone che sono state adotte moltissimi avvistamenti sono stati fatti proprio in israele e proprio nel nel monte del tempio guarda caso qui la religione c'entra sempre noi sappiamo che da quel momento dal 1947 1948 inizia quello che la bibbia chiama l'ultima generazione questa e queste sono profezie molto importanti che noi abbiamo trattato ampliamente nei nostri video benissimo queste sono proprio materie nostre quando entriamo in teologia in tutto quello che è il discorso biblico il linguaggio biblico sono materie nostre finché parliamo d'altro dobbiamo indagare eccetera eccetera ma quando parliamo di teologia e di escatologia che è la scienza che tratta le profezie dell'ultima del diciamo della fine dei tempi è proprio materia nostra noi siamo abilitati a questo quindi come dire abbiamo voce in capitolo benissimo tra l'altro noi rappresentiamo proprio quello che è il come dire il messaggio classico evangelico pentecostale da sempre che è stato un po modificato a causa come già detto delle persone che si sono introdotte furtivamente causando appunto grandi problemi nel nostro movimento a livello mondiale ma il classico pensiero che è sempre stato quello diciamo storico che poi è quello biblico è quello che noi esponiamo nei nostri video benedetto il nome del signore quindi da allora come già detto sono milioni di milioni di milioni di milioni le persone che sono state coinvolte nel fenomeno ufo come già abbiamo detto vogliamo riporre riproporre nuovamente la domanda sono tutte false possibile che decine di milioni di persone a un certo punto si siano impazzite e o si siano concordate per dire tutte la stessa cosa sicuramente ci sono molte posizioni false molte testimonianze false molte posizioni che vengono utilizzate per guadagnarci soldi come sempre ovvio questo esiste bisogna saper giudicare ma che siano tutte false ovviamente è impossibile con questo non stiamo dicendo che esistono gli extraterrestri così come vengono proposti noi sappiamo come già detto che gli extraterrestri assolutamente esistono ma come li identifica o gli spiega la parola di dio non di certo come marsiani come marsianini venuti da marte o chissà da dove con le antennine verdi no la parola di dio quando parla di extraterrestri parla di demoni caduti di angeli caduti benedetto il nome del signore il cui capo è satana se parliamo così allora possiamo tranquillamente parlare di extraterrestri perché infatti non fanno parte del nostro mondo ma vengono dal terzo cielo ora però andiamo piano riprendiamo il discorso diciamo che stiamo trattando che stiamo esaminando quindi il presente oggetto ora abbiamo nel pianeta terra migliaia migliaia decine di migliaia di fascicoli medici che confermano le innumerevoli prove che queste adozioni si sono concretizzate a cominciare dalle percosse fisiche e su tutto quindi su tutto il corpo ma non solo anche le violenze sessuali che hanno come dire hanno dovuto subire questi malcapitati fino ad arrivare al trapianto di organi e infine anche all'omicidio da parte di questi extraterrestri stiamo parlando uno degli ultimi dati che ho ascoltato si parla solamente per quanto riguarda gli avvistamenti ovni o ufologici più di un milione bene è interessante notare come molto spesso quasi sempre tutte queste situazioni si vengono a concretizzare dopo la mezzanotte ora tutti questi extraterrestri portano apparentemente un messaggio di pace dicono che noi esseri umani gli stiamo a cuore e si sono interessati nei nostri confronti e soprattutto vogliono preservarci dall'autodistruzione interessante notare come da una parte ci dicono questo e dall'altra parte ti rapiscono ti violentano ti asportano organi infine ti uccidono e moltissime persone che hanno avuto incontri con questa entità sono completamente entrate nella pazzia più totale senza nessun recupero interessante notare che lo stesso fenomeno si ripropone anche nello yoga nell'induismo la pazzia totale cominciamo a fare i primi passi di collegamento piccoli piccoli e molto timidi ma man mano che andremo avanti nel presente video saranno sempre più chiari quindi ci torturano ci serviziano fanno esperimenti sul nostro corpo infine ci uccidono e poi dicono voi ci state a cuore vi vogliamo bene e non vogliamo che voi vi autodistruggiate però dice la parola di dio che dai loro frutti li riconoscerete e bene loro questi pseudo extraterrestri avrebbero attraversato non so quante galassie non so quanti milioni di anni luce per farci queste cose interessanti bene questo è il loro aiuto quindi questa è la loro evoluzione quindi sono molto evoluti a quanto pare a me non sembra ma andiamo avanti ora ci sono molti messaggi centinaia di migliaia di messaggi lasciati da questi extraterrestri dove indovinate cosa screditano questi extraterrestri noi non ci crederete mai la bebbia ma guarda un po di di tutti i libri di tutte le religioni che ci sono nel mondo gli extraterrestri ce l'hanno con la bibbia con gli e con i cristiani ma guarda un po te non vi ricorda a voi qualcuno che va facendo il giro della nostra penisola dicendo nella bibbia ci sono gli alieni si ve lo dico io nessuno sa cosa significa elohim nessuno neanche gli ebrei e tutti che piangono sì grazie grazie che ci hai detto queste cose erano duemila anni che le aspettavamo e lui dice sì ma io non vi dico niente di nuovo quello che io vi dico si è sempre saputo e tutti che piangono e noi diciamo anche noi quello che vi stiamo dicendo sono cose che si sono sempre sapute e non vi stiamo dicendo niente di nuovo che poi voi lo vogliate accettare ovvero il contrario per carità è un vostro diritto benissimo andiamo avanti la new age la nostra cara e amica new age la new age è strettamente imparentata con l'ufologia con il richiamo e il contatto di queste entità extraterrestri e tutti quanti hanno un scopo unico comune quello di riscreditare la bibbia ora mi sembra strano che un extraterrestre viaggi milioni di anni luce per venirci a dire che la bibbia non bisogna leggerla ma l'ufologia o e l'ovniologia l'ovniologia considerata almeno fino ancora dovrebbe essere considerata tale una pseudoscienza nella ufologia e o e nella ovniologia cioè oggetto non identificato si pratica la meditazione la meditazione trascendentale lo yoga gli stati di incoscienza e l'ipnosi regressiva sto dicendo che nel mondo ufologico anche quello che non ha niente a che vedere con la new age con l'induismo con lo yoga e tutto quanto pratica tutte queste cose c'è il mondo ufologico ok che dice di essere completamente ateo e alieno a ogni forma di culto pratica lo yoga gli stati di incoscienza l'ipnosi l'ipnosi regressiva la meditazione trascendentale giusto un accenno verico non mi voglio mettere a far nomi ma c'è un noto ufologo italiano che ha fatto un po il giro del mondo ha parlato con le massime autorità anche della russia generali insomma gente che sta molto in alto e a un certo punto a questo personaggio che va parlando degli alieni ve lo dico alla romana gli vengono fuori le cosiddette stigmate quindi gli appare sta croce in fronte e sti e sti dubuchi alle mani un po come di alla padre pio ora però finché ne parli del padre pio ti posso capire nel senso che almeno il personaggio anche se se è saputo poi che si buttava l'ascito sulle mani ma questa è un'altra storia ma almeno il personaggio è correlato al mondo religioso ma adesso tu mi devi dire cosa c'entra un ufologo con le stigmate di cristo allora evidentemente qui c'è un trasfondo molto particolare e qui altro che ufologia ed extraterrestri qui c'è ben altro cari amici miei e solamente qualcuno concedetemelo che si è praticamente ha dato il proprio pensiero la propria mente il proprio razziocinio agli altri e gli ha detto fate un po quello che vi pare con la mia persona solamente uno così può non vedere quello che sta succedendo e tutti quanti che piangono e dicono sì meno male dimmi tu quello che c'è scritto nel testo originale e questi ci sono gli alieni non c'è Dio non c'è peccato non c'è creazione dal nulla va bene andiamo avanti ripeto l'ufologia pratica tutte queste cose ora io ho sempre fatto un pensiero no a me fanno ridere gli ufologi concedetemelo se voi seguite l'ufologia se voi investigate quello che noi vi stiamo dicendo noterete che a un certo punto quattro pellegrini 4 20 quello che è 200 non è non è il numero quattro pellegrini vanno su una montagna ok se prendono tutti per la mano ok chiudono l'occhi vanno un trans no e cominciano a comunicare costi alieni popolazioni alienigene di altri pianeti ma insomma ma c'è bisogno di entrare in trans per comunicare con questa gente sapete io ho visto un un video molto bello molto interessante dove la nostra civiltà in brasile è entrata in contatto con degli degli indigeni che non avevano mai visto l'uomo civi diciamo civile perdonatemi questo modo di esprimere l'uomo diciamo della nostra società diciamo l'uomo ha anche bianco no e vestito eccetera eccetera e queste diciamo due in realtà si sono incontrate è stato diciamo abbastanza un po commovente insomma per altri versi anche un po buffo sempre con molto rispetto parlandono come queste due civiltà perché di questo poi si tratta che nessuno è superiore non è questa la superiorità la superiorità è quella che sta nel cuore nell'animo non è possedere una determinata conoscenza e quindi e queste anche se la conoscenza di dio è chiaro che questo ci ha resi diciamo superiore in quanto abbiamo ma parlo della conoscenza del vero dio non delle pseudo religioni sataniche ci rende diciamo superiori come persone perché riceviamo la verità e la verità assoluta esiste e come se esiste anche se diciamo tutti che non esiste e che non si può misurare ma di questo ne parleremo dopo comunque queste due civiltà si incontrano e nessuno si è messo a fare la meditazione non è che tu ti incontri con una civiltà che non hai mai visto ti metti lì a fare la meditazione come mai con queste entità invece ci si mette a fare la meditazione puoi rispondere come ti pare perché le risposte non mancherebbero mai ma sono sempre subdole insomma qui c'è molto molto di più che una mera società alienigena bene quindi queste persone facenti parte del mondo ufologico lo ripetiamo per l'ennesima volta perché ci piace ripetere praticano praticano l'ipnosi regressiva gli stati di incoscienza lo yoga la meditazione trascendentale per diventare contattisti e o canalizzatori poi ti mostreremo dei video questa cari signori e signore è l'ufologia insomma vediamo come una persona diventa un canalizzatore o un contattato e o un contattato e vediamo come questa persona contattata che a sua volta diventa un canalizzatore viene praticamente impossessato da un extraterrestre questo nell'ufologia che all'ordine del giorno e ovviamente lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta attraverso discipline quale yoga trasce meditazione trascendentale eccetera 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 ora è interessante notare come questi contattati e questi canalizzatori negli anni sessanta ok dicevano dicevano insomma gli extraterrestri no chiamiamoli così che entravano in loro dicevano che venivano o da venus o da marte poi gli anni sono passati la come si chiama la nostra conoscenza è aumentata notevolmente così come profetizzato nella parola di dio sai nella parola di dio di dio ci sono decine di migliaia di profezie concretizzate perfettamente ma di questo parleremo dopo quindi la conoscenza dell'umanità è aumentata abbiamo scoperto che né in venus né in marte c'è vita e quindi adesso hanno cambiato messaggio e non dicono più veniamo da marte o da venus ma che ne so veniamo da orione o veniamo da altre costellazioni quindi sono bugiardi ora se una persona o un'entità è bugiarda questo è sinonimo che non te devi fidare loro infatti a conferma di questo ci sono milioni di persone adotte violentate uccise maltrattate con le quali gli hanno fatto gli esperimenti più brutali fino all'asportazione di organi e poi l'assassinio qualcosa sta succedendo nel mondo brian reves autore del libro pellegrinaggio dei dischi volanti scrive quanto segue cominciamo a dare un po di fonti dice da quanto si evince dagli studi sugli esseri dello spazio è evidente come abbraccino una infinità dei principi insegnati nelle filosofie orientali attraverso i loro veggenti questo non lo dice il mondo cristiano questo non lo dice alestio evangelisti questo lo dice un ateo una persona che non è cristiana un autore di un libro uno scrittore una persona colta studioso del fenomeno ovni extraterrestre ufologico john weldon noto studioso del fenomeno ufo extraterrestre anche lui ci pone qualche domanda vogliamo leggerla insieme lui dice quanto può essere credibile che migliaia di extraterrestri veri perché ci ci sono ormai troppi milioni di casi quindi quanto può essere credibile che questi extraterrestri parliamo di quelli veri fossero disposti a volare milioni di anni luce semplicemente per insegnarci delle filosofie già presenti sulla terra quale ad esempio la new age e al contempo screditare il cristianessimo e appoggiare l'occultismo ma poi prosegue e di e chiede per quale ragione queste entità si introducono e posseggono le persone nella stessa maniera che lo fanno i demoni è una domanda qui c'è un uomo noto scrittore del fenomeno ufologico chiamato john weldon che non è cristiano per niente e che si pone questi interroganti voglio dire noi abbiamo l'abitudine sempre di documentare quello che diciamo quello che affermiamo poi sta all'ascoltatore fare le ulteriori ricerche bene ripeto nessuno di questi era ed è cristiano bob hopkins fu un famosissimo scrittore del fenomeno ufo autore di diversi libri due dei quali sono tempo perso e intrusi fu considerato al suo tempo uno dei quattro maggiori esperti al mondo del fenomeno che riguarda le aduzioni abbiamo già spiegato cos'è e gli disse che le aduzioni sono il principale obiettivo degli extraterrestri ogni avvistamento dice lui ogni volta che qualcuno fa un avvistamento sicuramente c'è stato o si deve concretizzare un caso di aduzione quindi lui dice guarda che non volano tanto per volare tanto per farsi un giretto noi esseri umani siamo il loro principale obiettivo un altro noto scrittore di nome white il stripper racconta le proprie esperienze di aduzione vero falso non ci interessa allora qualcuno mi ci domanderà allora perché lo citi perché lo citate lo citiamo per il seguente motivo quando questo noto scrittore che ripetiamo nome white stripper raccontò le proprie esperienze e successe qualcosa di abbastanza anomalo ovvero ricevette più di 55 mila lettere dove le persone gli scrivevano per raccontare le loro invece esperienze di aduzione stiamo parlando di più di 200 lettere alla settimana di persone che gli hanno scritto fino a superare le 55 mila lettere di persone che gli hanno scritto che hanno avuto le stesse esperienze tutti i matti tutti bugiardi ci sembra molto strano ora vogliamo però far notare che questo scrittore era perfettamente inserito in un mondo in un mondo occultista infatti lui ha come dire ha scritto diversi libri che riguardavano l'horror o i killer libri di assassinati eccetera 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 e vogliamo ricordare che quando si fanno i film di orrore e libri eccetera eccetera ormai è noto a tutti che anche i satanisti partecipano e gli stregoni partecipano a queste cose per inserire lì loro diciamo i loro macabri le loro frasi delle frasi demoniache dove si invocano spiriti eccetera 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 guarda caso anche qui troviamo una correlazione dei due fenomeni appunto ufologia e occultismo andiamo avanti john kill esperto mondiale di ufo ufologia sapevate che john kill era agnostico cos'è l'ognosticismo se indaghi ti accorgerai che l'ognosticismo è il fondamento della massoneria che ne pensi come va come state tutto a posto vi sentite bene gloria che andiamo avanti bene john kill scrisse migliaia di libri sono stati scritti sulla demonologia cioè l'antico studio dei mostri e dei demoni le cui manifestazioni descritte sono perfettamente identiche a quelle del fenomeno ufo è un po come che la massoneria ci stesse prendendo in giro qualora fosse massone anche perché era gnostico va bene vogliamo parlare di un uomo che invece non ha niente a che vedere con tutte queste diciamo con tutti questi mondi oscuri questo è un pezzo da 90 come diciamo a roma e professore chiamato sir john eccles fu premio nobel nel 1963 15 abbiamo un premio nobel di ricerca del cervello cosa disse questo professor sir john eccles e gli disse che il cervello è come una macchina che deve essere controllato dal proprio spirito però in uno stato cosciente non in coscienza deve sempre essere cosciente vigile perché questo venga controllato quando questo avviene allora lavora in piena normalità ma se si viene a trovare in uno stato di coscienza alterata il tuo cervello viene disconnesso dallo spirito lo yoga quindi la meditazione trascendentale l'ipnotismo e tutte queste pratiche provocano proprio questo la disconnessione fra spirito e cervello e quindi aprono porti a entità alieni e lì che queste entità entrano siano chiamati extraterrestri o vengono chiamati demoni ciò non cambia niente rimangono sempre queste entità ma c'è una certa interazione un unico denominatore tra l'ufologia e la new age come già detto sia l'ufologia che la new age praticano la meditazione trascendentale yoga insomma tutte queste cose per diventare tutte e due questo si trova anche nella new age per diventare contattisti ovvero contattisti quindi contattati e canalizzatori benedetto è il santo nome del signore la new age propone proprio questo ora vi vogliamo mostrare un video dove una persona viene usata da un supposto extraterrestre per comunicare il video è in inglese viene sottotitolato in spagnolo e quindi potete voi giudicare da da voi stessi quello che dice questo contattato e a sua volta canalizzatori quindi questo sarebbe il cosiddetto nella stregoneria verrebbe chiamato il medium mentre invece nell'ufologia o nella new age viene cambiato il nome da medium diventa praticamente canalizzatori e come quello che abbiamo parlato prima che non si chiama diciamo religione ma si chiama energia non si chiama preghiera ma si chiama meditazione quindi voglio dire cambiano il nome ma poi alla fine rimane sempre la stessa la stessa porcheria bene e noi intanto vi diciamo qualora voi non parlaste nessuna di queste due lingue vi diciamo quello che dice e poi vi mettiamo il video in maniera tale che poi possiate giudicare da voi stessi ripetiamo qui si tratta di un canalizzatore quindi di qualcuno che sta nel mondo dell'ufologia un mondo che apparentemente è alieno a tutto ciò che è stregoneria occultismo eccetera eccetera ma che come stiamo vedendo alla luce dei fatti così non è bene vi diciamo quello diciamo la parte principale poi ve lo potrete ascoltare da soli vi diciamo quello che dice questo questo extraterrestre che poi diventano due che parlano attraverso questa persona che non vogliamo chiamare medium per non offendere nessuno ma lo chiameremo canalizzatore come vuole l'ufologia lui questo extraterrestre dice solo di venus se vogliamo un solo pianeta una sola gente un solo ordine mondiale alla fine vuole questo insomma stanno predicando il nuovo ordine mondiale vogliamo che tutti siamo uno poi a un certo punto c'è il cambio di diciamo di extraterrestre c'è il cambio della canalizzazione e viene uno spirito tibetano ricordate hitler tutto quello che vi abbiamo detto e questo spirito tibetano questo extraterrestre scusate questo extraterrestre tibetano dice di chiamarsi io sono javè io sono lui dice io il mio nome è io sono ecco qui che vediamo un attimino questi qua che vanno girando la penisola qui nella nostra italia e altri nelle altre nazioni vanno dicendo appunto la stessa cosa quindi dice di essere lui il creatore di tutte le cose ecco qui che noi saremo figli degli extraterrestri e le stesse cose che dicono questi barbari che solo loro capirebbero l'ebraico antico ovvero dicono che nessuno lo capisce però loro ce lo spiegano è strana questa cosa ecco questa non l'ho capita sono sicuro ho capito tante cose ma questa no poi questo extraterrestre prosegue e dice che ognuno di noi è dio gnosticismo e new age e induismo ognuno di noi è dio ma guarda poi prosegue e dice noi vogliamo una nuova razza e comincia a predicare e questa nuova rassa è stata predicata da tutti anche da queste cose da questi movimenti che stiamo vedendo e anche dallo stesso hitler che attento a piene mani dall'induismo vogliamo una nuova razza poi questo extraterrestre o questi extraterrestri ci dicono chiaramente che ci deve essere lo lo sentirete poi nel video ci deve essere una new age c'è una nuova era con questa nuova razza e il nome di questa nuova razza dovrà essere pace la bibbia dice che quando diranno pace sicurezza allora una improvvisa ruina piomberà su di loro sapevate questo e poi conclude dicendo che tutti siamo collegati col cosmo ecco qui che torniamo all'induismo allo yoga i vari tipi di yoga che ci fanno collegare con il cosmo con il dio del cosmo appunto il cosiddetto dio che si fa chiamare io sono che ha creato tutte le cose e che dice questo extraterrestre nessuno può impedire tutto ciò eccetto colui che nega di essere dio quindi colui che non abbraccia questi principi ecco a voi signori e signore il video in questione buona visione ciao 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 grazie quindi che vuoi che vuoi sapere? dove sei? io sono da venus non credo che nessuno credere che tu o nessuno potrebbe essere da venus potrei dire come se non è un'inhabitabile come se non è un'inhabitabile io credo che non è un'inhabitabile perché non è un'inhabitabile per le forme di vita fisiche noi abbiamo le corse di luce mentre lea rambles sulle fantastiche ideas suon compels l'audience toward global unity a message found throughout the new age movement can you with all of your different ideas all of your different races come together come together as one planet and one people now the interviewer asks the woman to exchange spirits and to channel another spirit that calls itself the tibetan 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 is an often referred to hotspot for new age empowerment Hitler's nazi occultists went to tibet thinking to find their ancient aryan ancestors listen carefully to the tibetans message as he refers to the great i am the name god reveals in the bible to describe himself i am the tibetan and i have come during this time continuum to discuss with you the idea of the only question in the universe and that question is what is and the answer is i am for all things that are created that were created that shall be created fall under the question what is and you each and every one of you are that answer and that answer is i am i am is also the name of the creator of this universe as the entity leo returns she confirms the you are god message and refers to the new race that will arise through the new age movement most new ages today do not realize that this new race is identical to the master race prophesied by adolf hitler a race of so called supermen who will be their own gods having rejected the one true god of the bible this new age is where there will be a race on this planet and throughout all galaxies and the name of that race will be peace it's been wonderful spending some time with you as you take this little piece of information with you know that you are never alone you are all connected to the creative source of this universe and nothing can stop that flow except your denial that you are god we come from the interplanetary confederation of solar systems and our purpose is to aid our brother man on the planet earth as the new age dawns the teacher that was known to you as jesus was able to use many more of the abilities than the people of this planet unfortunately man upon planet earth has misinterpreted the meaning of this man's life he was no different from any of you he was simply able to remember certain principles these principles may be realized by anyone at any time it is only necessary that you avail yourself to our contact through meditation in order to begin to re-realize that which is rightfully yours the truth of the creation and the truth of your position in it know ye not that ye are gods bene cari amici abbiamo potuto vedere con i nostri propri occhi quello che succede nel cosiddetto mondo ufologico un mondo che dice di non aver nulla a che fare con il mondo della new age che a sua volta il mondo della new age dice di non avere nulla a che fare con l'induismo che tutti questi dicono di non aver nulla a che fare con il mondo dell'occulto del satanismo eccetera 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 quello che noi avremmo visto loro dicono che non è altro che una una semplice canalizzazione che viene normalmente praticata nel mondo della ufologia attraverso appunto questi chiamiamoli strumenti quali lo yoga la meditazione trascendentale eccetera 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 a noi come dire possiamo vedere a occhi occhi proprio nudi proprio proprio senza nessuna ombra di dubbio che la cospirazione ufologica e la new age non è altro che una serie di proposte di messaggi satanici punto e basta eccoci questi vengono da altri pianeti dicono e non pensate che si limitano a screditare solo la bibbia ovviamente se screditano la bibbia era anche da aspettarsi che screditassero anche il nostro signore salvatore dio Gesù Cristo e infatti parlano di Gesù come una persona realmente esistita tra l'altro mi fanno ridere questi qua che vanno dicendo che nella bibbia ci sono gli alieni e poi dicono che Gesù storicamente non è mai stato provato che sia esistito ma quanto sono bugiardi e poi questi demoni invece dicono no no è esistito è esistito pensate pure i demoni pure si vabbè sono demoni però facciamo finta che sono extraterrestri dai pure gli extraterrestri ci dicono che invece Gesù è esistito però lo presentano come una persona qualsiasi che aveva raggiunto questi poteri attraverso appunto queste tecniche di meditazione che riusciva insomma a governare le cosiddette energie energie cosmiche va capì un po' come si chiamano benissimo e che tutti quanti possiamo arrivare allo stato che è arrivato Gesù utilizzando appunto queste tecniche ora in qualsiasi libreria della New Age se tu entri noterai che l'80% della letteratura quindi dei libri parlano proprio di canalizzazioni di meditazioni trascendentali e di tutte queste pratiche quindi come dire possiamo vedere che qui veramente scusate più la cosa l'andiamo ad approfondire e più ci odora male se sei una persona razionale se poi come già detto ti sei tolto il cervello e l'hai dato in mano a chi vorrebbe muovere anzi a chi muove i figli di questo mondo quindi perdere la tua identità il tuo raziocinio ma fai pure accomodati pure ci mancherebbe noi le cose ve le diciamo poi ognuno fa quello che vuole stranamente però noi ritroviamo tutte queste pratiche che stiamo appunto trattando che abbiamo già detto e ridetto le ritroviamo in primis andando a ritrosso in Babilonia e andando ancora più a ritrosso già nell'antico Egitto ecco qui che mi fanno ridere quelli che dicono sai nell'antico Egitto già si parlava di alieni avevano trovato gli alieni eccetera 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 e noi rispondiamo e te credo facevano pure loro queste pratiche di yoga non si chiamava così meditazione trascendentale ipnotismo eccetera eccetera eppure loro entravano in contatto con questa entità è normale e vedete com'è tutto collegato poi se si va a indagare andiamo avanti telepatia mentale insomma la letteratura del fenomeno UFO tratta tutte queste cose ma non solo tratta anche la metafisica la metafisica l'abbiamo già accennato la stessa appunto telepatia mentale ma non solo la scrittura automatica cioè la scrittura senza coscienza poi tratta entità invisibili insomma tutto questo tratta il fenomeno UFO che a sua volta andando a ritroso nella storia lo ritroviamo in Babilonia e in Egitto ecco perché poi in Egitto hanno spesso fatto cose che da un punto di vista umano è impossibile farle perché si sono avvalse da poteri occulti è molto semplice il discorso tutte queste cose sono state ampiamente denunciate dalla stessa parola di Dio quindi la Bibbia bene ora vogliamo far presente che come l'ufologia tratta tutte queste materie che poi sono materie esoteriche allo stesso modo allo stesso modo ecco qui i famosi controlli incrociati allo stesso modo tutta la letteratura dell'occultismo tratta ampiamente il fenomeno ufologico lo ripetiamo tante volte non fosse stato chiaro la letteratura che trovi in una libreria ufologica tratta tutte le materie di esoterismo tra cui metafisica, telepatia mentale, scrittura automatica, ipnosi eccetera 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 e se vai invece in un'altra libreria che è una libreria dell'occultismo tratta il fenomeno ufo ed extraterrestre questi sono dati di fatto che poi a te non te garba che poi a te non te va giù che poi a te te esadrissano i capelli perché vuoi prendere la Bibbia come fa qualcuno fa i video dove prendono la Bibbia e buttano la Bibbia in un cestino della spazzatura perché è un satanista questo è un problema tuo anche perché chi fa un'azione del genere anche umanamente parlando dimostra scusate di essere uno stupido è come se io adesso in questo video prendessi un cestino vi facessi vedere come butto un libro della New Age nella spazzatura ma una persona intelligente non si abbassa questo quindi c'è molta stupidità in giro abbiate pazienza se siamo così franchi cioè sono anche persone poco intelligenti ben disse qualcuno e non l'ho detto io l'ha detto uno che neanche è cristiano una persona che insomma ha fatto più video e ha dimostrato come queste persone non è cristiano pensate non è cristiano non è stiamo parlando di una persona non cristiana culturalmente molto preparata lui ha fatto un video dove ha dimostrato come queste persone che vanno in giro questa persona quello che è che vanno in giro è per l'Italia e per il mondo che vanno in giro dicendo che la Bibbia non dice quello che dice nel linguaggio originale come non solo questo è falso e lo ha dimostrato pur non conoscendo l'ebraico biblico noi invece approccieremo la situazione proprio da un punto di vista linguistico ha dimostrato con la logica la ragione con le regole diciamo che vanno dovute che vanno portate diciamo vanno eseguite quando si legge qualcosa ha dimostrato come questo invece è tutto falso basta usare la ragione e come dire basta valutare tutto alla luce di un contesto generale e ha dimostrato come la maggior parte delle persone che poi vanno a queste pseudoconferenze sono persone dice lui che hanno un come dire hanno una conoscenza una preparazione culturale di livello medio basso e che si vogliono dare un tono andando in queste pseudoconferenze non l'ho detto io non lo ha detto il mondo cristiano lo ha detto un mondo che non appartiene al nostro ma che ci fa riflettere quindi come dire basta fare tornando adesso a noi il cosiddetto controllo incrociato noi vediamo come sia le librerie dell'occultismo sia le librerie dell'ufologia alla fine vendono la stessa robaccia roba dell'occultismo e come questo fenomeno degli extraterrestri è perfettamente integrato in questo contesto appunto occultista molto semplice ripetiamo ti garba, te garba, non te garba, te va giù, non te va giù per carità poi ognuno rimane nella propria posizione andiamo avanti se tu scrivi su google scrittura automatica parapsicologica noterai che ti appaiono una serie di siti che hanno a che fare col mondo dell'occultismo entrando in questi siti che hanno a che fare prettamente col mondo dell'occultismo c'è una sezione dedicata al contatto degli UFO, degli extraterrestri i principali siti al mondo di satanismo di stregoneria eccetera eccetera hanno tutti una sezione che viene dedicata proprio al fenomeno UFO extraterrestri non ci credi? indaga anche perché comunque se sei uno che non vuole ascoltare pur avendo orecchie pure se ti mettono l'evidenza in faccia continuerai ad essere come dire ceccato sei ceccato finisci bene e si dice no quelli che hanno avuto contatto con gli UFO dicono che questi appestano a morto e a zolfo non lo diciamo noi sono queste notizie sono presenti nei stessi libri nei stessi siti dove si tratta l'ufologia dicono che appestano a morto e a zolfo la parola di Dio parla di zolfo e di queste cose e dei demoni che sono perfettamente come dire collegate a queste situazioni collegati a queste situazioni ora c'è un film dell'occultismo intitolato amityville horror film che è stato molto famoso noi sconsigliamo di vedere film horror noi non lo abbiamo visto questo film horror però ci racconta la critica di quelli che hanno visto questo film noi non assolutamente il cristiano non deve guardare film horror assolutamente vietato quindi noi lo sappiamo perché queste cose vengono quando il film viene descritto dalla critica e tutto quanto nel film appare che a un certo punto appaiono dei demoni e questi demoni appestano da morto e da zolfo esattamente come lo stesso che ci racconta il mondo ufologico quando i contattisti appunto vengono a incontrarsi con gli extraterrestri potete vedere le critiche del film intitolato amityville horror un'altra ulteriore dimostrazione che i due mondi tutto sommato non sono due ma sono uno bene la domanda del milione come nasce la new age qualcuno dirà già l'hai detto attraverso un gesuita di nome Chardin sì è vero lui è praticamente anche se non si dice il fondatore diciamo di questo movimento new age di questo ne parleremo tra breve ma subito dopo viene a crearsi attraverso tre personaggi attraverso molti personaggi ma ce ne sono tre in particolare che questi personaggi vengono chiamati la trinità satanica femminile la trinità satanica femminile è formata dalla famosissima madame Blavatsky ovvero madame Ellen Blavatsky poi c'è Annie Besant e Alice Bayliss o Bailey scusate non Bailey questa è la cosiddetta trinità satanica femminile perché hanno gettato diciamo le fondamenta a questa new age erano tutte come dire involucrate nell'occultismo più profondo ma come già detto il vero fondatore è stato il sacerdote gesuita di nome Pierre Teilhard de Chardin 1889 1955 questo è il suo diciamo il suo periodo di diciamo storico ora normalmente il cattolicessimo quando si parla diciamo dello yoga che come questo è stato introdotto eccetera eccetera nel cattolicessimo fa un nome per depistare e fa il nome del del sacerdote Jean-Marie de Channette autore del libro del libro yoga per cristiani ora però noi dimostriamo adesso dimostreremo che non è lui diciamo colui che introdusse né lo diciamo lo yoga nel cristianesimo né tantomeno fu lui il fondatore della new age perché il fondatore della new age fu de Chardin che è molto prima di de Channette perché de Channette lui nasce nel 1906 fino al 1992 invece de Chardin il fondatore della new age è del 1889 molto prima fino al 1955 quindi ancora una volta troviamo che il movimento della compagnia di Gesù o dei gesuiti si trova appunto dietro a queste cose poi dopo questo sarà bandito dalla chiesa cattolica intanto però ha introdotto ha creato un movimento satanico chiamato appunto la new age la nuova era dove si manifestano dove si invocano gli extraterrestri quindi i demoni il fatto che ci sorprende ancora di più e qui non ce ne vogliate a male qui non è che adesso si vuole sparlare del cattolicesimo semplicemente si danno dei dati poi voi fateci quello che vogliate abbiamo visto come lo yoga la new age il kundalini sono tutte cose che vengono da satana e anche gli stessi esercizi fisici sono stati creati per per far fuori uscire questo kundalini questo serpente che secondo loro dimorerebbe alla base della spina dorsale benissimo e che succede che la chiesa cattolica non ha preso una posizione netta su questo argomento infatti l'allora cardinale che poi diventerà papa Ratzinger nel 1989 ok ufficializzerà con un documento la posizione della chiesa cattolica nei confronti dello yoga il documento è sullo zen anche il documento si chiama orazioni formas cioè alcune forme o alcuni aspetti della meditazione cristiana dove in questo documento ok lo potete trovare in internet si consiglia di non fare lo yoga ma non si prende una posizione determinante nei confronti di questo mentre invece il cristianesimo deve prendere una posizione determinante deve condannare queste pratiche e deve dire ai credenti di stare il più lontano possibile ecco qui che tutto sommato la posizione ovvero quello che ha creato De Chardenne un padre gesuita lui è stato tra virgolette bandito ma poi alla fine la posizione nei confronti dello yoga lascia sempre molte porte aperte nel seno della chiesa cattolica è un dato di fatto appunto e investigate se abbiamo sbagliato fatecelo presente noi abbiamo tutti quanti i documenti e li abbiamo visionati effettivamente le cose stanno così quindi non ce ne vogliate noi semplicemente vi diciamo le cose come stanno tutto qua molto semplice ora la New Age parla di fratellanza bianca la quale fa il bene del pianeta e poi parla di una fratellanza nera la quale fa il male del pianeta l'ufologia fa la stessa cosa in modo diverso parla di alieni buoni i quali vorrebbero il nostro bene e poi parlerebbero di alieni cattivi i quali vogliono il male del pianeta sarebbero questi che vanno in giro a fare le adozioni ora se noi esaminiamo alla luce del cristianesimo che è esattamente quello che dice la parola di Dio nel senso che ci sono angeli caduti e angeli buoni quindi non si stanno inventando niente e lo stesso Hitler faceva questo ragionamento di una umanità ariana buona e un'altra che invece andava completamente distrutta questo è è satanico benedetto il santo nome del signore quindi noi vediamo che la new age l'ufologia sono perfettamente collegati fra loro ancora una volta possiamo osservare toccare con mano come veramente le cose stanno così benissimo ora una situazione molto importante che ci ha fatto diciamo sorridere in senso rispettuoso visto la delicatezza del tema è che quando ci sono state delle conferenze tra i più importanti ufologisti non so se si può dire così al mondo perché alcuni di questi stanno in buona fede non è che stanno tutti in cattiva fede la maggior parte sì ma alcuni diciamo mosche bianche ci sono che stanno in buona fede hanno scoperto hanno scoperto che molte adozioni cioè quando arriva l'extraterrestre che ti vuole come dire catturare inserire nella sua navicella per poi violentarti pensa un po' che schifo sono state evitate perché la persona ha cominciato a invocare il nome di Gesù Cristo automaticamente questi extraterrestri l'avrebbero lasciato questo ha fatto saltare per aria molti di questo mondo dell'ufologia e noi diciamo invocate sempre il nome di Cristo alleluia gloria a Dio bene il trucco più grande di Satana è sempre stato questo cioè quello di far credere all'umanità che lui non esiste mentre invece non c'è nulla di più falso Satana esiste è reale e non è un alieno anche se è un alieno nel senso che non fa parte di questa terra in questo senso certo è un extraterrestre ma non è un extraterrestre come ce lo vorrebbero dipingere questi pseudo questi pseudo movimenti no è un angelo caduto egli si chiamava Lucifero e si trovava nel terzo cielo voleva prendere il posto del Cristo il posto di Dio voleva farsi uguale a Dio e c'è stata una guerra tra Satana e i suoi angeli e Michele e i suoi angeli e sono stati buttati fuori dal cielo e adesso stanno ingannando tutta quanta l'umanità la New Age il nuovo ordine mondiale la globalizzazione l'ecumenismo vogliono portare un certo piano e per portare questo piano in questo mondo per introdurlo si stanno avvalendo proprio di questo degli extraterrestri solo Dio sa quello che succederà da qui a poco tempo ma sappiamo che qualcosa di molto grande dovrà succedere perché Satana adesso i suoi angeli si trovano nel secondo cielo ma sappiamo che molto presto dice la Bibbia che sarà cacciato anche dal secondo cielo per essere gettato sulla terra hai visto mai Satana sta preparando qualcosa bene interessante altresì notare come i centri di Kundalini e di Yoga organizzano queste pseudo conferenze dove questi pseudo predicatori che dicono appunto che nella Bibbia ci sono gli alieni bene i centri di Kundalini di Yoga chiamano questi predicatori nei loro centri a predicare appunto che nella Bibbia ci sono gli alieni e gli extraterrestri dimostrandoci dimostrandoci ulteriormente ancora una volta come questo mondo del dello Yoga del Kundalini dell'Induismo della New Age sono perfettamente collegati con quest'altro mondo che va predicando appunto che nella Bibbia ci sono gli extraterrestri e dietro tutto questo c'è la massoneria e dietro la massoneria questo ce lo ribadisce bene la parola di Dio c'è il falso profeta che poi governerà tutto ed è Babilonia la grande la madre di tutte le meretrici ebbene cari amici con questo abbiamo terminato questa seconda parte grazie per averci seguito seguiti fino qui e vi invitiamo a vedere la terza parte di questo video dove invece andremo a trattare la parte più che dottrinale la parte linguistica della parola di Dio dove andremo appunto a esaminare le posizioni di queste persone che solo loro avrebbero capito ok quello che c'è scritto nel linguaggio originale facendo leva sul fatto che poverini giustamente le persone non comprendono il come dire l'ebraico biblico ma che sono comunque non sono giustificati perché le persone dovrebbero sapere tante altre cose e le sanno ma che ahimè non vogliono sapere bene con questo terminiamo vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito fino qua e ci vediamo alla prossima ed ultima parte che Dio vi benedica e ci vediamo e ci vediamo e ci vediamo Grazie.